Buongiorno a tutti e bentrovati a Mindset, il programma di approfondimento su psiche, psicologia e pratiche meditative. Buongiorno a Nicola Maffini e a Giovanni Zucchi e ben ritrovati perché siete finalmente riusciti a trovare il tempo per tornare a trovarci. Ci troviamo in questo momento nei locali dell'ospedale Mario Luigia di Monticelli Termo in provincia di Parma perché i nostri ospiti che erano già stati qui qualche settimana fa, visto anche un discreto numero di mail che sono arrivate che ci chiedevano proprio della mindfulness che è quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, insomma abbiamo deciso di reinvitarvi e vi ringrazio di essere e di essere qui qui con noi oggi. Insomma questa mindfulness, passatemi il termine, mi piace nel senso che trova riscontro, mi riferisco alla pratica della mindfulness. Noi speriamo di sì, insomma siamo dei primi promotori di questa cosa. Perché voi l'avete sperimentata su di voi. L'avete sperimentata su di noi, ne viviamo i benefici insomma tutti i giorni per cui insomma cerchiamo di passare anche quello che prendiamo anche alle altre persone. In più immagino che sia cresciuto anche per alcuni fenomeni di massa contemporanei ad esempio dal punto di vista musicale. Spero che tu non ti stia riferendo al Cebud in fila indiana. Penso di sì. L'ultima canzone che ha vinto. Ok, va bene. C'è anche questo. No, intanto vorrei ricordare ai nostri ascoltatori due cose. La prima è che gli psicologi di Livs, Nicola, Giovanni e altre tre persone che ricordiamo sono Jennifer Faietti, Nea Filimberti e Cristina Magni, ogni mercoledì credo alle 19.30 siano aperti a, qui in uno spazio ben definito dei poliambulatori, a degli incontri che sono credo liberi e aperti a tutti, giusto? Sì, sì. Anche persone che non hanno mai praticato. Ok, anche persone che non hanno mai praticato. La seconda è, ricordo sempre all'inizio di trasmissione la nostra posta elettronica che è radiochiocciolaospedalemarieluigia.it dove potete scriverci per dubbi, domande, richieste, suggerimenti, suggestioni varie. Ecco, torniamo al discorso della mindfulness. Una mindfulness che è una meditazione centrata sul qui e ora, sul presente, giusto? Ecco, questo essere così centrati sul qui e ora ci apre a delle esperienze nuove, delle esperienze inaspettate. Ma domando, è vero, nella nostra vita abbiamo esperienza anche di cose negative, il disagio, la sofferenza, anche il dolore. La mindfulness le affronta queste cose? Sì, la mindfulness ci chiede di osservare tutte le esperienze che avvengono nel momento presente, anche quelle dolorose. Ci chiede però di farlo con un atteggiamento diverso dal solito, non di repulsione rispetto anche alle esperienze negative o di attaccamento anche nei confronti di esperienze positive, ma di farlo con un atteggiamento di apertura e curiosità. E questo ci permette di sperimentare anche le esperienze negative in un contesto più sicuro, protetto. A volte si parla di compassione, di compassione anche verso noi stessi e verso quello che sperimentiamo solitamente, i nostri limiti, i nostri difetti anche. Quindi, mi rivolgo a Giovanni, si può dire che in un qualche modo la mindfulness va da controcorrente nella misura in cui va anche a cercare delle esperienze di sofferenza per poterle… Sì, sì, diciamo che… ti collega nel senso che non è che le va a cercare, ma sta con quelle che emergono e spesso emergono esperienze di sofferenza, dal più banale prurito al naso a emozioni, a sensazioni invece magari più difficili. È chiaro che il notarle con curiosità, il fare spazio a queste sensazioni è un po' anche la chiave, non è l'unica chiave, però diciamo che è uno degli ingredienti fondamentali, diciamo, della mindfulness e può portare queste esperienze… abbandonare, diciamo, la lotta con queste esperienze e riuscire a fare spazio a queste esperienze, sviluppare questa abilità di fare spazio a queste esperienze è una delle parti fondamentali della mindfulness. Ottimo, molto bene. Ci fermiamo un momento per una canzone. Eccoci tornati, siamo in presenza di Nicola Maffini e Giovanni Zucchi, stavamo parlando di mindfulness. Io ho davanti qui la vostra pagina web e leggo. gestione delle emozioni negative dello stress, effetti positivi per la memoria, apprendimento, attenzione, migliora gestione delle situazioni di dolore acuto e cronico. Allora, di dolore acuto ne abbiamo un pochettino già parlato. Parliamo invece di appunto memoria, apprendimento, attenzione. Sono questi, se così si può dire, i benefici della mindfulness? In realtà noi facciamo un'unica cosa. Cioè lavoriamo perché le persone siano disponibili a muoversi in direzione di ciò che per loro è importante anche in presenza di esperienze negative, di vissuti negativi o di confusione. E questo sperimentalmente o clinicamente parlando ha dimostrato di essere, di avere dei benefici su un'ampia gamma di vissuti, di esperienze delle persone e di migliorare anche vissuti negativi, quelli che noi di solito chiamiamo ansia, depressione, mania o anche dolore. Insomma, questo sembra essere un elemento comune a quella che noi chiamiamo flessibilità psicologica, che è l'obiettivo vero dei nostri interventi e anche dello sviluppo della mindfulness. È chiaro che la mindfulness può essere intesa anche come una pratica di allenamento dell'attenzione, da riportarci qui. Quindi anche quello che dicevi prima, sicuramente è vero, cioè sono più presente, ho più memoria, ci sono. La memoria spesso non l'abbiamo perché c'è intervento. Quindi diciamo la cognizione del vissuto, del cui è ora, che si rende manifesta, che si esplicita e di cui noi però poi dopo ne abbiamo attenzione e quindi ce ne ricordiamo anche. Esatto. Noi siamo capaci naturalmente di focalizzare l'attenzione su diverse cose e quindi muovendo la nostra attenzione, imparando a muoverla intenzionalmente, riusciamo anche a migliorare diversi aspetti della nostra vita. Ecco, vi vorrei chiedere questo. La mindfulness è intesa appunto sempre come pratica. Quali sono, diciamo così, io so che si può praticare in gruppo, si può praticare anche individualmente. Quali sono, come dire, non dico cos'è preferibile perché sono entrambe secondo me ottime pratiche, ma forse, diciamo, che cosa le differenze a queste due pratiche? Posso dire qualcosa io? In realtà la mindfulness è sempre una pratica individuale, indipendentemente che la si faccia da soli in una stanza o in gruppo, perché noi osserviamo le nostre esperienze personali, quindi quello che è importante della pratica di gruppo è che il gruppo aiuta e supporta la pratica continuativa. Nel buddismo c'è un concetto che è quello di sangha, che è la comunità delle persone che ti aiutano nella pratica e quindi serve dal punto di vista motivazionale e di supporto. Noi nel nostro piccolo, ad esempio, quando facciamo le meditazioni il mercoledì, creiamo un piccolo supporto alla pratica continuativa, quindi è come se creassimo un piccolo sangue. Sì, forse, assolutamente, questa è forse la cosa fondamentale, forse un altro vantaggio del meditare in un gruppo, di fare altri esercizi di mindfulness in un gruppo è il privilegio di poter portare l'attenzione anche sull'esperienza di un'altra persona durante i momenti di condivisione. E lì si può sperimentare anche quello che viene chiamato un po' la umanità condivisa, il fatto di essere molto più simili di quanto non pensiamo. Nella domanda di prima io mi riferivo proprio alla cosiddetta pratica, già la meditazione guidata, ecco, dove c'è una guida, perché mi rendo conto che è sempre individuale, ma forse, per lo meno per chi è agli inizi, per chi la pratica, è più difficile magari avere un'autoguida e un modello da seguire in questo senso. Una guida è importante nelle prime fasi di apprendimento, poi come in tutte le cose pian piano si diventa più autonomi e quindi si può portare avanti una pratica più tarata su di sé, è più individuale. Ok. Siamo in chiusura di questo nostro incontro. Vi chiedo così, se voleste segnalare o dire qualcosa agli ascoltatori magari che non hanno mai avuto, come dire, l'opportunità, piuttosto che non hanno mai incontrato persone. Se voleste rivolgere loro un invito, quale sarebbe questo invito? Di approcciarsi alla meditazione con la propria modalità, con la propria sensibilità e di avere molto rispetto per le proprie predisposizioni. Si dice sempre che bisogna alzarsi dal sedile in meditazione con delle sensazioni positive, perché se ci alziamo doloranti o con delle sensazioni sgradevoli miniamo in partenza tutto il percorso. Dobbiamo avere molto rispetto, essere molto graduali e seguire le nostre predisposizioni. Sì, un'altra cosa. Quindi tornando anche su quello che dici tu, ampliandolo, mi sentirei anche di rassicurare a chiunque che c'è un tuo modo. Magari non sarà una meditazione formale, magari appunto non sarà la mia voce ad aiutarti, può essere la voce di qualcun altro, può essere un esercizio molto più semplice. Però sì, quello che dice Nicola è fondamentale. Non c'è la mindfulness. Sì, c'è la meditazione che è uno degli esercizi più importanti, ma ce ne possono essere molti altri. Ci sono persone che io non ho mai conosciuto, di cui ho letto delle cose che mi sono state molto utili. Ci sono persone che io ho conosciuto e che istintivamente non mi hanno attratto. E ci sta questo. Bene, io ringrazio davvero tanto Giovanni Zucchi e Nicola Maffini e anche allargando gli altri componenti della vostra equipe di Leafs. Se volete cercare Leafs e cosa fanno potete andare sulla loro pagina Facebook, ma avete anche altri social secondo me e comunque anche una pagina all'interno del sito dell'ospedale Maria Luigia. Speriamo di rivederci nella misura in cui magari altre persone ci faranno domande su di voi e su quello che state facendo. Grazie a te Alberto. Grazie. Arrivederci a tutti. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.